Eccoci qua per questo annesimo video commento, nell'ultima giornata di girone del campionato di calcio a 7 in T-School la sfida è quella tra staff e Elfish Buonasera a tutti i ragazzi, intanto Allo staff serviva una vittoria contro Toscarto, Trippette, ecco Ci hanno fatto ragazzi e lo staff Per fortuna è finita 14 a 2 In avvio lo staff è andato molto in scioltezza con Campagna che ha segnato subito due gol in 5 minuti praticamente E il primo tempo è finito addirittura 5 a 0 Mentre nella ripresa diciamo poi All'inizio ripresa c'è stata una leggerezza dello staff Però bisogna anche riconoscere agli Elfish che comunque Ci hanno provato, ci sono impegnati E comunque lo staff nel primo tempo è stato perfetto Non ha concesso praticamente nulla Perfetto lo staff Nella ripresa appunto questa incertezza dello staff Ci sono stati i primi 5-10 minuti Che ha rischiato lo staff di diciamo Insomma di mandare all'aria quello che stava E ha subito appunto il gol del 5 a 1 E sono avuto un po' fuori gli Elfish Solo nel finale alla fine comunque lo staff ha ottenuto alla fine tre triplette Che penso che contentiranno di mantenere il primato Sì perché facendo i conto hanno fatto 3-9 Avevamo 0-3 di vantaggio Quindi siamo 4-2 sopra in attesa della sfida Quindi dovrebbe essere staff in finale In teoria E quindi negli Elfish diciamo A parte l'impegno alla fine l'atteggiamento è un po' rinunciatario Tutti bene Tutti promossi Con il solito campagna davanti a tutti Campagna che insegue un altro primato da Capannoniere Scusate eccolo là Dov'è? Aspetta con lo zoom Che ha fatto campagna? Eccolo là 4 gol Grazie Aspetta faccio salutare Ciao ciccio Ecco 4 gol per campagna e niente Ci vediamo in finale quindi Ci vediamo in finale Ah perché il videocomentatore gioca pure Ok ciao Marco Ciao